Il rapporto comunità rinnovabili 2020 di Lega Ambiente presentato nei giorni scorsi racconta una campagna virtuosa che viene fuori dalla mappa delle buone pratiche di amministrazioni comunali, cittadini e aziende a proposito di energie da fonti rinnovabili. Cano Auletta per il solare fotovoltaico e Buonabitacolo per il solare termico, tra le tante realtà salernitane premiate. Grazie ai 35.709 impianti da fonti rinnovabili, la campagna si conferma tra le prime dieci regioni italiane con la maggior potenza installata, dove il solare fotovoltaico e la tecnologia prevalente, seguita dall'eolico e infine le bioenergie e l'idroelettrico. Per tutte le tecnologie degli ultimi anni è stata osservata una crescita progressiva delle fonti rinnovabili. Dal 2008 al 2019 infatti è stato registrato un incremento medioannuo dell'11,2%. 548 i comuni del solare fotovoltaico in Campania e c'è Auletta tra le realtà premiate. Due parchi fotovoltaici molto grandi, uno sotto la serra San Giacomo in località Mattina e uno in località Campo, uno è privato. Da quello invece su terreni comunali l'ente ricava, fa sapere, 30.000 euro annui di energia immessa in rete. Sono 463 i comuni campani invece del solare termico. Si tratta per la maggioranza di piccole realtà e c'è Buon Abitacolo che consegue il risultato grazie a due progetti dedicati all'efficientamento della pubblica illuminazione che prevedono la distinzione delle lampade da alogene a LED. Il secondo progetto di efficientamento energetico è stato presentato lo scorso 14 novembre, fanno sapere dal Comune, e prevede il completamento di alcune aree periferiche.